Con un messaggio su Twitter Charlotte Flair ha rivelato di aver contratto il Covid, motivo per il quale è a casa e non può dirsi certa di poter partecipare all'ormai imminente Vrestelmenia. Questa dichiarazione spegne dunque le varie dicerie sorte attorno alla figura dell'atleta, nate dopo la risoluzione consensuale del contratto che legava il suo promesso sposo Andrade alla WWE, avvenuta nella giornata di ieri. Venho dato comunicazione nella sezione community. La sensazione attuale è che in caso di recupero fisico, il Covid è una brutta bestia, non sai mai quanto ci metti a venirne fuori, ecco in caso di recupero Charlotte potrà in qualche modo tornare facilmente ad inserirsi nella card dello showcase degli immortali. In caso contrario sarà obbligata a saltare l'evento.